Ma questo Abba non vale manco, è più forte Félix e Gianno va C'è il gol intanto della Savio Stai, non c'è conto io, Cristian, vado io, vado io, che fai? Ragazzi, forse, ragazzi! Ragazzi, forse, ragazzi! Ma che parata! Se vedi qualcosa non sta andando perché non si fanno modifiche, non c'è altro dei uomini, i uomini sono quelli che sto ad accanto con te. Passato il pallone potrebbe trovare il gol del pareggio e lo trova infatti la Lupa Fraschiati, torna in parità. Grazie! Non c'è libero se lo salvano da loro. C'è le chance per il Savio per poter andare in vantaggio proprio nella finale, palo sfortunato. Ancora un miracolo del portiere, poi il difensore si salva. 1-1 finisce questa raccina. Grazie.